Ciao ragazzi, sono Duiglio Ategola, oggi il 27 marzo, è un po' che non mi sentite, ma non perché eravamo a dormire, ma perché semplicemente stavamo lavorando assiduamente per voi e per rilanciare al più presto l'attività nostra e dei massaggiatori nel momento in cui si ripartirà alla fine di questa crisi. Ora Diabasi ha creato tutto un programma, abbiamo lavorato su questo, perché possiate stare con noi e perché possiate formarvi comunque durante questo periodo di quarantena. Diciamo che tutto quello che fa Diabasi, lo ribadisco, è totalmente gratuito, nessuna attività che mettiamo in piedi, da webinar di cui adesso vi parlerò, a videocorsi, a pubblicazioni, tutto questo è totalmente gratuito, sia per i nostri allievi che per gli allievi di altre scuole o per i curiosi o per coloro che sono interessati al mondo del massaggio. Quindi Diabasi non chiede soldi a nessuno, non facciamo corsi online a 99 euro per poi scararli, queste cose, noi non le facciamo. Noi facciamo attività che può esservi utile per migliorare la vostra formazione in questo periodo in cui stiamo a casa e che poi sarà utilissima nel momento in cui ripartiremo. Bene, abbiamo creato l'iniziativa Diabasi è con voi, abbiamo creato anche l'hashtag Diabasi è con voi, quindi consta di tutta una serie di attività. Molte di queste attività le troverete pubblicizzate sul sito internet, troverete e vi arriverà probabilmente la newsletter, saranno tutte da visionare, da trovare su Facebook e avremo ogni giorno qualcosa. La domenica un storytelling di qualche nostro allievo, qualche nostro docente che ha realizzato con successo la sua professione di ammassagatore dopo la formazione con Diabasi. Il lunedì troverete un video concernente soprattutto il lato fiscale, legale e la privacy, un video di Salio Badin. Il martedì e il venerdì saranno dedicati a dei webinar in diretta, il primo lo otterrò io stesso e tratterò un argomento molto importante, il futuro del lavoro da ammassaggiatore dopo questa crisi. Quindi affronterò tematiche che sono molto importanti oggi, come gli errori che dovremmo non commettere per essere pronti nel momento del ritorno al lavoro. Farò delle previsioni su quando si potrà ricominciare, su come si comincerà e come si lavorerà in quel momento e cosa possiamo fare adesso in concreto per riuscire ad ottenere poi nel momento in cui ricominciamo a lavorare il massimo risultato. Il mercoledì invece avremo il momento dell'editoria dove avrete a disposizione delle pubblicazioni nostre da capitoli del libro Masterness a parti di testi di altri libri sul massaggio. Il giovedì avremo ancora dei video, soprattutto di automassaggio o di trattamento di massaggio rivolto agli animali che abbiamo in casa. Il venerdì, come vi ho detto, c'era un altro webinar e poi il sabato ci saranno dei video, sempre su Facebook, con le favole di Papergino dedicate a tutti i vostri bambini. Ecco, quindi restate connessi. I webinar, oltre al mio, saranno tutti gestiti dai nostri direttori regionali e tratteranno materie a voi molto importanti come anatomia, la funzione dei muscoli, il fesologia plantare, la storia del massaggio e fondamentali del massaggio. Quindi saranno delle vere e proprie lezioni e i webinar dureranno dai 20 ai 30 minuti a seconda, delle vere e proprie lezioni utilissime. Quindi restate collegati, si partirà già domenica con le storytelling e il webinar il martedì e il venerdì saranno ottenuti da noi alle ore 16. Quindi collegatevi su Facebook, noi siamo pronti, noi ci crediamo, noi so già che ce la facciamo, mi mancate voi, mi manca il massaggio, e mi manca l'Italia. Quindi troviamoci presto, restiamo uniti e collegati. La nostra attività è gratuita, lo ripeto, ed è aperta a tutti quanti. Grazie a Diabasi, grazie a Duglio e a Tegola, a presto. Se il video ti è piaciuto, condividilo, metti un like, iscriviti al canale e visita il nostro sito di abasi.it